Ciao Marco, oggi è il tuo giorno speciale, quindi noi abbiamo deciso di festeggiarti e questo è il nostro regalo per te. Buon compleanno Marco! Un bacione! Volevo farti gli auguri con la girata stile Uppas, ma meglio evitare, credimi. E quindi in modo carino e simpatico faccio gli auguri attraverso la mia Tippi. Tanti auguri Marco! Non andremo in via, eh? Volevo con noi. Ciao Marco! Volevo guardare un bacione, guardate tutti i passi tutti i miei. Sì, è bellissimo. Tanti auguri! Volevo fare tanti auguri e spero che tu rimanessi. Io ti seguo sempre e un bacione per altro. Grazie a tutti Grazie a tutti